Facciamo un gioco, io vi do un paio di indizi e voi mi dite di che film si tratta. Una spedizione al circolo polare artico, una tempesta di neve in arrivo, un elicottero che a causa della tempesta non riesce a fornire soccorso ai nostri eroi, un tizio con un lanciafiamme e una creatura aliena assorbita da centinaia di anni tra i viaggi. Ora, alcuni di voi potranno dire che si tratta della cosa di John Carpenter e invece no, nella maniera più assoluta no. Il film in questione è terrore tra i ghiacci Arctic Predator, è già un titolo del genere e sinonimo di immondizia. La trama è molto semplice, un gruppo di esploratori deve andare al circolo polare artico per recuperare i resti di un vascello inglese del 1800, ma durante gli scavi risveglia una creatura aliena. La prima scelta. Madonna, noi ancora non abbiamo fatto in tempo a metabolizzare lo schifo che potrebbe palesarsi di fronte ai nostri occhi che loro pensano bene di piazzarci questi due individui che definire poco credibili sarebbe un complimento vestiti come due scappati di casa, incollati su uno sfondo in green screen tra l'altro perché questo film è colmo di computer grafica pessima. Veramente è qualcosa di schifoso questa scena, è tremenda. E' come se non bastasse, in post-produzione hanno anche ben pensato di appiccicare della neve fasulla sulla pellicola. Chapeau! Questi due tizi sono parte dell'equipaggio di questo galeone inglese e decidono di scendere dalla nave per andare alla ricerca di... Iniziano a incamminarsi con parte dell'equipaggio quando vediamo piombare dal cielo quello che dovrebbe essere un meteorite ma che è più simile a un blocco di calcio e struzzo. I nostri amici rimangono scioccati, basiti e decidono di recarsi sul luogo dell'impatto per verificare ciò che è accaduto. Immediatamente da questo blocco di calcio e struzzo intergalatico esce fuori una creatura. Madonna, che creatura esce fuori! Questa creatura è terrificante, ma non nel senso buono del termine, trattandosi di film horror. No, terrificante concettualmente, è brutta in una maniera inconcepibile, fa schifo al cazzo, è stata realizzata con i piedi. Non si capisce dove inizi e dove finisca, non si capisce quale sia la testa e quale sia il culo. Veramente qualcosa di tremendo e di tutta risposta, i nostri amici del secolo scorso decidono di avvicinarsi a questa creatura. Con scuse, non vi preoccupate, non è ostile, è solamente spaventata. A parte che è appena piombata dal cielo un meteorite e da questo meteorite è uscita una creatura aliena. Ma poi, concettualmente, voi nel 1800 già eravate così evoluti da pensare che potesse esserci un'altra forma di vita nell'universo oltre a quella dell'essere umano? Io ne dubito fortemente. E comunque il nostro ammiraglio decide di avvicinarsi a questo schifo in computer grafica che, in tutta risposta, gli molla una panca sul petto e lo ferisce a morte. Ci ritroviamo ai nostri giorni, dove questa spedizione, composta da scienziati, speleologi, ricercatori, biologi, si reca sul luogo dell'accaduto per recuperare i resti di questo vascello del XVIII secolo. Ora, all'interno di questa spedizione c'è un tizio particolarmente petulante. È qualcosa di... veramente una rottura di palle atomica. Io ho già... allora, sono dieci minuti di film e questi già ci hanno fatto vedere di tutto. Ma dateci un attimo il tempo di... di farci la bocca a sta merda. Non potete martellarci in questa maniera. Sembra veramente di essere circondati da persone che ti picchiano da tutte le direzioni. Qualcosa di... questo è l'effetto che ti trasmette. Questo tizio è fissato in maniera morbosa con questo galeone. Parla solo di questo galeone. Ah, è la mia vita. Io ho sempre studiato questo galeone. E da quando sono a liceo io non vivo altro che per trovare questo galeone. Questo galeone è qui e questo galeone è lì e questo galeone va a fanculo. Iniziano gli scavi, iniziano gli scavi e subito recuperano due corpi dai ghiacci. Due corpi smunti, brutti, neri. Ora, io non sono uno scienziato però nel diciottesimo secolo c'era veramente di tutto. C'era la peste, la lebra, il colera, il vaiolo, Tentation Island, Enrico Papi, Umberto Smile. C'era di tutto, c'era veramente di tutto. E voi così, candidamente, tirate fuori queste due salme senza precauzione alcuna. Cioè, neanche, non so, un prelievo di tessuto per rassicurare tutti quanti sul fatto che, no. Li tirano fuori solamente per poter dire, ma che schifo. E grazie al cazzo si vedeva anche dal ghiaccio che i due corpi non erano messi così bene. Peccato che tirando fuori questi corpi risveglino la creatura che giustamente stava dormendo e dice, ma come cazzo è, ma non si può manco dormire in pace al circolo colare artico. Questa creatura, svegliata da questi nostri esploratori, non la prende troppo bene e inizia a massacrare qualsiasi cosa gli si pari di fronte. I primi due a farmi le spese sono due tizi che non si capisce bene perché nel cuore della notte siano rimasti a picconare sul ghiaccio al circolo polare artico, di notte. Vabbò. Questi tizi vengono immediatamente uccisi da questa creatura. La mattina seguente assistiamo a gran parte del gruppo della spedizione che si reca sul luogo anche per capire che fine abbiano fatto, che fine abbiano fatto quei due poveri stronzi. E li ritrovano così, morti, stecchiti. E assistiamo alla prima scena di Didipa. Oh mio Dio! Come sono stati uccisi! Questa non è opera di un essere umano! Chi? O cosa? Allora, se già hai capito che non è opera di un essere umano, le cose sono due. O prendi quelle due salme e ti levi dalle palle, o ti levi dalle palle senza prendere le due salme. Di certo non è che resti lì come poi accade, come un perfetto idiota a continuare a parlare di come siano ridotti i corpi, perché capisci che non è credibile. Infatti, la creatura esce di nuovo fuori e le ammazza tutti. Ora ce li troviamo insieme a due che erano stati mandati, per chissà quale motivo, 100 km più lontano a piazzare dei ligrometri. L'igrometro è uno strumento che permette di captare i cambiamenti del tasso di umidità all'interno dell'aria, dell'atmosfera, per capire se da lì a poco ci potrebbe essere un cambiamento climatico. Peccato che per radio sentiamo questi due tizi parlare col campo base e gli viene detto sbrigatevi a piazzare gli igrometri perché sta per arrivare una tempesta di neve. Ma allora, per quale cazzo di motivo li hai mandati lì, se sapevi benissimo che stava per arrivare una tempesta di neve? Li hanno mandati lì per farli uccidere dalla creatura. E perché dico questo? Perché la nostra creatura ha il dono dell'ubiquità. vediamo questa creatura al campo base rompere le palle e un attimo dopo ritrovarsi in prossimità dei due poveri malcapitati che erano stati mandati a posizionare l'attrezzatura. Ora, anche loro come si fanno a uccidere da questa creatura? Beh, molto semplicemente rimangono ad aspettarla. E come la rimangono ad aspettarla? Beh, in maniera molto scontata. Fanno per andarsene quando uno dei due a un certo punto ha la brillante idea di dire aspetta, fammi una foto ricordo. Ma una foto ricordo di che cosa? Una foto ricordo di che? Dietro di te non c'è nulla, non c'è niente intorno per centinaia di chilometri. Io capisco che tu sia andato al circolo polare artico e voglia documentare questa esperienza. Ma cosa cazzo ti fotografi a fare? Ci fosse un pezzo di ghiaccio particolare, un iceberg? Non c'è nulla. L'unica cosa che si vede sullo sfondo è che lo stesso fotografo riesce a catturare è la bestia che caracolla giù da una collina poco distante. E glielo fa presente al tipo a cui sta scattando la foto che di tutta risposta si gira e fa Ah, potrebbe essere un orso polare. Ma stiamo scherzando? A parte che figlio mio, quello è tutto perché è un orso polare. Ma anche se si trattasse di un orso polare, l'orso polare non è la creatura più amichevole di questa terra. Quindi secondo me vi conviene levarvi dalle palle perché in quella vi si fa scarpe e tutto e di fatti la creatura arriva da loro e li ammazza. La scena in cui li ammazza è qualcosa di spettacolare. Uno dei due spara un narcotico alla creatura che di tutta risposta sembra non subire gli effetti del tranquillante. Allora il nostro amico zompa sulla motoslitta fa per partire quando improvvisamente la creatura da che era a 5 metri di distanza gli si materializza davanti e lo disarciona dalla moto lui cadendo e strana pistola. Narcotizzante decide di sparare una bella freccia narcotica al serbatoio della slitta che di tutta risposta esplode. Esplode. Io non sono un cacciatola ma dubito in maniera nella maniera più totale che all'interno di una freccia narcotica ci possa essere qualcosa di differente dal narcotico. Che cosa cazzo c'era là dentro di torlicerina che spara il serbatoio di una motoslitta e la fa esplodere? Comunque la nostra creatura pare non essere scalfita dal fuoco e notiamo il secondo potere della bestia che è quella di sparare i polaretti dalle dita. Veramente i polaretti. Io ne spara quattro in petto e lo secca. Dal campo base hanno assistito a tutto attraverso la radio quindi se già i calaveri recuperati poco prima non fossero stati un incentivo per levarsi dalle palle ora ne hanno un altro bene. Più marcato. Peccato che uno fra di loro ossia quello fissato morbosamente col vascello non voglia abbandonare il campo. Potrebbe non sembrare un problema inizialmente anche perché gli altri gli dicono chiaramente guarda se tu vuoi stare qui a fare l'arte dei pazzi a farti ammazzare da quella caccata in computer grafica brutta fai pure noi ci leviamo dalle palle anche perché sinceramente si è fatta una certa. Purtroppo però come abbiamo appreso in precedenza l'elicottero non può arrivare a recuperarli perché sta giungendo una tempesta di neve guarda dalla continenzia ma pensa un po' non l'avrei mai detto e quindi si ritrovano intrappolati in questo campo la creatura che è lesta è furba e astuta come un cetto di legno inizia a braccarli e assistiamo allo spigone più bello di tutto il film c'è uno scienziato in questo film uno scienziato in... uno scienziato, non fate domande uno scienziato quando lui dice che lavoro fa? lo scienziato boh, è scienziato lui e ti spiega come o cosa perché questa creatura sia lì che cosa sia da dove vedi? ah, questa creatura ha orbitato per centinaia di anni attorno all'atmosfera di Giove è costituita da isotopi del Deuterio da acqua pesante ma in che maniera l'hai capita tu questa cosa? sì, è scritta sul copione ok, lo sappiamo però dico tu proprio umanamente parlando come puoi averla capita? che A, non l'hai mai vista B, non ho avuto il minimo contatto con questa creatura come cazzo fai a dire queste cose? improvvisamente all'interno del bunker inizia a calare il gelo tuttavia i nostri amici ci spiegano che potrebbe essere semplicemente una percezione sensoriale poiché il termometro disegnava 17 gradi in precedenza e 17 ne segna adesso ma il nostro scienziato deve giustamente dire la propria e no perché la creatura si ciba di calore ed estrae il calore da no no, no se il termometro segna 17 gradi le cose sono due o il termometro è guasto ma come voi ci avete detto il termometro funziona perfettamente o tu sei un emerito pallaro stai dicendo una marea di puttanate e di fatti sta dicendo una marea di puttanate anche perché se la creatura fosse stata come dire dipendente dal calore in maniera così pronunciata come lui dice com'è possibile che è stata sepolta 200 anni sotto 20 metri di ghiaccio e sia ancora viva perché la creatura è poco studiata e non sapendola ha detto sai che c'è io me ne freco e esco uguale a quel punto ci troviamo di fronte a un problema il gasolio dei generatori sta per terminare e due tizi decidono di uscire recuperare le tanniche ubicate in un capannone non ben localizzato nelle vicinanze escono fuori peccato che imperversi la tempesta e la tempesta madonna la tempesta la tempesta è bellissima la tempesta è la tempesta un ventilatore che spara del fumo biancastro e basta questa è la tempesta e noi assistiamo a questi due che oddio si gettano contro pareti così a caso senza motivo e urlano oh madonna quanto urlano dove sei? non ti vedo corri verso di me andiamo a recuperare la roba prima che la creatura ci locali allora a parte che se la creatura ancora non vi ha visivamente localizzato se continui a urlare come una testa di minchia nel centro della bufera vi localizza sicuramente perché state urlando come dei dementi ma poi un attimo dopo noi vediamo che il capannone in cui è situato il combustibile è lì è lì cioè è proprio lì lo vediamo si vede allora perché sei stato a girare tre quarti d'ora come un deficiente? facevi due passi entravi prendevi il carbonato e tornavi indietro recuperano il carburante e tornano indietro peccato che l'alieno becchi uno dei due e lo uccide la porta di ingresso del bunker si incastra a causa del gelo una scienziata va per sbloccarla e assistiamo un altro pipotto del nostro amico scienziato che ah no la creatura potrebbe aver cambiato forma quindi avendo cambiato stato non potrebbe essere localizzata no no un attimo dopo la creatura si palesa bella massiccia granitica e fa fuori anche quella ragazza ora il superstite ha bene in mente di prendere il lanciafiamme e dar fuoco alle tanche di benzina ma se quello ti è appena finito di ok che quello dice una maria distrenzata ma se ha appena finito di dirti che questa creatura si cibla di calore ma può mai sembrarti un'idea brillante dar fuoco a del combustibile per ucciderla e difatti la nostra creatura lo attacca e gli da una pacca sul braccio immediatamente lo prendono e cercano di amputargli il braccio poiché come loro stessi ci dicono il ghiaccio sta arrivando direttamente al cuore si peccato che il flashback subito dopo ci riporti ai nostri amici del diciottesimo secolo e all'ammiraglio che era stato paccato in centro al vento che è lì morente e istanto sta scrivendo un diario un diario che recita le seguenti parole e sono due giorni che sono stato attaccato dalla creatura sembra che io stia perdendo come due giorni quello due secondi stava veramente diventando un polaretto e tu due giorni ancora non sei crepato le distorsioni dello spazio-tempo così comunque la creatura che sembra aver sentito quello che il nostro scienziato diceva pensa bene di cambiare di stato ma lei non lo sapeva ma lei non lo sapeva ma lei non lo sapeva tanto quello ha detto che posso e infatti si infila insieme nelle condutture di aspirazione del centro militare e ad un certo punto arriva la perla la perla di questo scienziato che grazie a Dio decide di immolarsi e levarsi dalle palle e dice no ora l'unico modo per fermarlo e attirarla all'interno della camera nucleare scusa la camera nucleare e che cos'è il nome di Dio la camera nucleare a parte il fatto che tu veramente mi vuoi far credere che una spedizione organizzata per andare a recuperare i resti di un vascello del diciottesimo secolo abbia l'attrezzatura per allestire ammesso che esista una camera nucleare e che cosa stavate andando a fare lì per avere a disposizione il materiale per allestire una camera ma poi che cos'è una camera che cazzo è una camera nucleare comunque il nostro scienziato attira questa creatura con una scatola di plastica una scatola di plastica con una luce saluta e la nostra creatura in forma gassosa lo insegue all'interno della camera nucleare lui dà via al processo di nuclearizzazione della zona e i due all'esterno della camera gli intimano di fermarsi di interromperlo anche perché e lui di tutta risposta esordisce con eh non posso una volta attivato il processo di nuclearizzazione non è più reversibile veramente io voglio fare un appello a quelli che allestiscono a questo tipo di camera voi non potete prendere per il culo così sta gente perché siete voi la colpa è vostra voi gli montate il fungo di attivazione però poi fate gli infami e non gli montate il fungo di disattivazione perché non è possibile che questi in tutti i film non abbiano il modo di fermare il processo di nuclearizzazione e l'autodistruzione beh io ma non lo so ma stiamo scherzando e se in quella camera uno mentre faceva le pulizie con la scopa urtava il pulsante bisognava evacuare tutto il circolo polare attico comunque questa nuclearizzazione che non capisco cosa sia non serve a nulla la nostra creatura sopravvive e il nostro fissato con il vascello decide anch'esso di immolarsi grazie in nome della comune causa e salendo su una ruspa brutta in computer grafica brutta decide di spingere una bruttissima creatura in computer grafica all'interno di una grotta altrettanto brutta in computer grafica grotta su cui tra le altre cose notiamo essere stato piazzato dell'esplosivo chi come quando perché nessuno te lo spiega con il comando ben saldo in mano fa saltare per aria la grotta un'esplosione di dimensioni abnormi qualcosa di enorme e la creatura pare rimanere incastrata sotto le macerie allora mi hai detto per tutto il film che sta bestia si ciba di calore ma io posso ritenere credibile il fatto che da un'esplosione di quelle dimensioni lei non abbia minimamente carpito dell'energia per prendere e massacrarvi tutti perché santi Dio ve lo meritate comunque no il nostro amico completa il diario del suo antenato scrivendo 8 dicembre 2000 e cazzo ho finalmente riscattato l'onore del mio antenato posso morire tranquillo spero che questo diario non venga mai più ritrovato rimangono in tre quella quella è stata ampusata al braccio e le due scienziate superstiti della spedizione di notte al circolo polare artico con una tempesta di ghiaccio e l'orbe le truccate col giubbotto sbottonato a fissare l'orizzonte e dire puttana del calibro di questa so che nessuno ci crederà mai quello che è accaduto qui è incredibile ma noi porteremo sempre nel cuore quello che succede allora io non so se voi abbiate bene in mente come è il circolo polare artico ma vi assicuro che con la temperatura che c'è al circolo polare non avresti fatto in tempo a dire ora che saresti molto assiderato però in questo film la fisica il tempo lo spazio sono relativi e quindi tutto si conclude per il meglio con un elicottero che arriva a recuperarli peccato che sullo sfondo noi vediamo precipitare quello che dovrebbe essere un meteorite ma che è molto più simile a un blocco di calcio estenso dalla volta celeste e ora mi chiedo c'è bisogno che io dica qualcosa sul serio io sono alibito ma una domanda mi sorge comunque spontanea di preciso cosa cazzo è una camera nucleare